Perciò che oggi siamo in questo nuovo video qui da minecraft era una pvp da bad lion e oggi da come potete vedere Vi sto facendo innanzitutto il video molto velocemente perchè sennò oggi non sarebbero usciti video dato che non ce l'ho preparato Perchè da come potete notare sono con il nuovo pc Dio non so se lo potete notare però perchè non so se grazie mille se ci sono qualcosa che possa farlo notare Però ho il nuovo pc e naturalmente vuoi che non ci siano problemi vuoi che io abbia la fortuna che sia tutto perfetto e a posto No ci sono problemi che è uno dei problemi più fastidiosi cioè che da problemi a minecraft Non capisco il perchè non vada perfettamente con le fps abbia un po' di problemi Perchè prima era su adesso l'allocated memory cioè in alto a destra è al 50% Mentre prima quando ho riavviato il pc mentre prima era al 100% circa andava così proprio a palla E infatti laggava un sacco adesso vado verso i 60 fps quindi non è malissimo Però non capisco ugualmente perchè ne faccia così pochi anche se le impostazioni di minecraft non è che le abbia messe così tanto alto Giusto la render distance cosa sto mettendo aspetta che prima ammazzo sto tizio perchè sennò poi la situazione si fa complicata Del tipo che però mi ha ammazzato lui con qualche road combo incredibile Ok No Se le impostazioni non è che abbia messo robe troppo complicate Nel senso ho messo quelle che avevo sull'altro computer soltanto che ho aumentato la render distance a 8 perchè giustamente Che che mi tenga a fare quella così cortissima orrenda Poi la fog non mi piace Togliamola E' brutta La nebbia non mi piace Però sono strafelice di essere riuscito ad avere un nuovo pc Ringrazio infinitamente Aaron per l'aiuto che mi ha dato ieri perchè io questo pc l'ho montato Sabato Cioè mi era arrivata l'SSD l'ho montata con anche gli altri hard disk e ho montato tutto Poi dopo aver montato questa roba però mi serviva il disco di installazione di Windows che mio padre mi doveva dare E me l'ha dato però la mattina dopo perchè era impegnato quel giorno Quando me l'ha dato mi ci sono messo subito e non sapevo perchè io quando devo fare queste cose Mi serve l'aiuto di qualcuno perchè sennò io non ci so buono a farlo Mi inizio a prendere l'ansia e dico oddio e se sbaglio E poi che faccio sto sbagliato e che faccio E allora qui e allora là E mio padre continuava ad avere sempre dei problemi quindi doveva andare ad aiutare mio zio in alcune cose Tutte queste cazzare qua quindi non ci stava per aiutarmi Allora io come indeficiente metto il disco di Windows per installarlo Inizio a ruttare installazione perfetto Però non so non capivo dove installarlo Come facevo a dirgli di installarlo sull'SSD Come fare alcune cose E allora mi ci sono impallato per tre ore E sono stato fermo a guardare lo schermo perchè non sapevo cosa dovesse cliccare Poi è arrivato il mio padre e mi ha detto guarda dovevi soltanto cliccare avanti Cliccare lo spazio del disco quindi l'SSD mettere avanti e si installava Io invece come un cogliene ero stato tre ore a guardare il desktop Poi giustamente installi Windows si installa tutto si vedeva orrendamente Tutto cicciotto tutto sfalzato non funzionava bene Dicevo ma perchè mo non leggeva la scheda video Dette vai perfetto Grazie a Aaron poi ci sono stato in pratica tutta la serata Dovevo installare soltanto i driver sia di scheda madre che di scheda video E ho sistemato e quindi tutto perfetto Finalmente si vede infatti è troppo figo sto computer Si vede tutto stra bene lo amo E sistemato sto problema ho detto ah finalmente mi sono messo ad installare tutti i programmi Tutto ciò che mi serviva E poi E poi Oggi vado per dire vabbè tanto oggi non avevo scuola Quindi posso mettermi a registrare i video per oggi stesso Così che almeno non glielo faccia mancare E Minecraft c'è il suo problema Adesso più o meno si sta risolvendo Perchè comunque 60 fps rifaffissi Grazie a Fraps che l'ho messa a 60 fps Quindi è per quello che sta a 60 Sennò sarebbe pure di più E in teoria dovrei essere riuscito anche a risolverlo Quindi forse forse Sto problema della Located Memory si è stato tolto Bastava riavviare il pc Ok Tutti i problemi inutili E l'ultimo invece problema che ha questo bellissimo pc È il cavo Il cavo di voi Quello che ti porta dalla scala video fino al computer Tu mi stai un attimo a rompere le palle Quello che ti porta dalla scala video fino al computer Grazie mille E se pvp fa un po' schifo è perchè è mattina Quindi non preoccupatevi troppo A parte che fa sempre schifo Però è mattina Quindi fa più schifo del solito Non mi sono riscaldato Quel cavo di voi Che porta dal computer L'attacca alla schermata E poi arriva fino alla tv Che ci sta O di voi O RGB RGB è 720 Quindi c'è la full hd o hd normale E col full hd si vede da dio Poi non vedo l'ora adesso Dopo aver registrato questo video Di provare Di provare Come si chiama Sono di Vegas Perchè avendolo messo Io l'SSD Non ce l'ho mai avuta Avendolo messo sull'SSD Dovrebbe andare Che è una meraviglia Infatti Dovrebbe renderizzare Velocissimamente Di questo sto troppo felice Infatti già Guardando come si accende Windows Che si accende Io prima sui pc Che avevo prima Ci metteva 10-15 minuti A essere operativo Qui ci mette veramente Manca un minuto E già tutto perfetto Ho detto Oddio mio Sono troppo emozionato Mi eccito Mi eccito tantissimo E grazie a questo bellissimo pc Vorrà dire tante belle cose Tra cui adesso Gioco molto molto meglio A minecraft Di questo Le sono molto felice Di giocare Veramente Veramente meglio Vorrà dire che Mi impedirò molto di più Nella qualità Perché finalmente Posso portare molte più cose Vorrà dire che io Ho una voglia incredibile Di fare UHC E ho anche una texture pack Da mostrarvi Che amerete Sono sicuro E voglio mostrarvelo Un UHC Che poi farò Vorrà dire tanto UHC E vorrà dire Tante Tante Open Lobby Sul TS Che trovate in descrizione Quindi se vi va Voi potremo Tente se prese un attimo Una boss Mammata leggera Potremo fare un bel po' Di Open Lobby Poi se a voi va Comunque Questo video direi Che può finire qui Era tanto per farvi sapere Che il bellissimo pc È operativo Intera non dovrebbe avere problemi Comunque Tanto per risolvere Poi Aaron potrebbe darmi una mano Però voi se siete così gentili Che vi preoccupate per me Potreste principalmente Suggermi su Twitter Perché lì magari Vi aggiorno sempre sulle cose E poi dirmi Come si potrebbe risolvere In teoria questo problema Della memoria Così che è troppo alta Così magari Se tipo poi mi si ripresenta Io lo tolgo subito Questo problema Detto ciò Comunque Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi vi sia piaciuto Se vi vi sia piaciuto Vi lascia un like O come ci vediamo Domani Con il prossimo episodio Trader Black È tutto Bella Ciao a tutti Ciao a tutti